Velocità, un tema ricorrente che ci ha fatto sobbalzare e temere dalle piste di discesa a quelle del fondo. Il tempo di Vancouver sente l'odore del mare, tanta acqua intorno e tanta pioggia sulle gare e tanta neve mista d'acqua, assegnato ogni giornata. Su questo però si deve ricostruire, progettare, inventare, lavorare con quell'amore, con quella gioia che ha visto la gente del Canada, di Vancouver, partecipare a questi giochi olimpici, come non mai un immenso sorriso che ha portato i saluti al mondo di ogni disciplina olimpica, di ogni trionfo, di ogni vittoria, di ogni bellezza, come catturare nel sacrificio dello sforzo o di una prestazione quella sensazione di esserci, in tanti, tantissimi, tra pubblico e atleti. Ecco questa è l'Olimpia, esserci. Salute! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.